Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi mostro un'opera faraonica, titanica, che vedete qui davanti, che ha portato via esattamente due settimane di lavoro a mia moglie, stampa, pittura, ovviamente pulizia dei pezzi, dei supporti e tutto quanto. Vedete Space Crusade, noto, conosciuto in Italia come Star Quest, completamente rifatto in 3D, totalmente, dalle stanze, alle mura, alle porte, alle incrociate, le miniature no, sono quelle originali, completamente, completamente rifatte in 3D ed è il lavoro più grande che è stato commissionato a mia moglie fino ad ora. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Penso non ci sia bisogno di presentare un gioco dell'MB che ha fatto l'infanzia di tutti noi. Star Quest portato in Italia, qui lo vedete l'edizione originale Space Crusade, un gioco che era all'inizio e i natali di Warhammer 40.000 alla nascita, gioco soprattutto che venne richiesto al tempo a una novellissima Games Workshop dopo aver fatto Star Quest e dopo aver fatto Hero Quest, venduto appunto dalla Milton Bradley, gli venne chiesto di fare qualcosa magari anche futuristico, un gioco medievale e un ambientato nel futuro. e fece lo Space Crusade Star Quest. C'è stato commissionato un lavoro, anche se già anticipatamente avevamo fatto le incrociate che sono queste che vedete al centro. Vi ricordate? Ce l'ho qui dietro che erano questi che andavano connessi appunto per fare le incrociate e noi questi qua sono queste che vedete che li abbiamo rifatti completamente in 3D. Poi ovviamente tutte quante le porte tipo l'airlock che è questo qua giù come pezzo rifatto in 3D e poi c'erano le porte, queste porte qui tutte rotte che sono tipo queste porte qua che noi siamo andati a risampare con danni, dettagli e quant'altro. Ed è stato un progetto come vi ho detto che ha portato via due bobine intere, due settimane di lavoro solo praticamente finiva un pezzo di stampare e colorava, finiva un pezzo di stampare e colorava, l'ha primerato tutto, tutto quanto primerato, tutto quanto colorato e fettato con tanto di finale. Quindi quello che vedete è tutto, tutto il tabellone, tutta la mappa di Star Quest non c'è un pezzo di mappa, infatti vedete tutta quanta componibile, anche le stanze sono componibili e si possono staccare ed è tutta, tutta, tutta la mappa del gioco tanto che con un progetto del genere non avete più bisogno di giocare con la mappa del gioco che è la vecchia ma direttamente sopra queste qui e vedete anche il layout delle stanze, delle porte addirittura quindi le incrociate, le porte si vanno anche ad aprire come vedete una figata di questo progetto 3D quindi fate passare le truppe, corridoio, corridoio e poi dopo nel caso la potete andare anche a richiudere stessa cosa le porte insomma che si possono spostare. ovviamente poi ve lo faccio vedere anche da vicino mia moglie ha cercato di rifare tutti i layout come erano nel coso originale però quello insomma è andata a mano libera quindi il risultato è venuto ben più che eccellente poi mentre parlo vi si fa vedere una ripresa aerea da vicino e stiamo usando le miniature del vecchio Star Quest per quanto forse in scala leggermente più grande volevamo riprovare anche visto che si è rifatta al 99% si voleva rifare al 100% usando le nuove miniature della non edizione della GV di Warhammer 40.000 magari metterci i nuovi Space Marine i Primaris, i nuovi Orki, i nuovi Gene Stealer i nuovi Marine del Chaos, i nuovi Necron volevamo provare a metterci tutte quante le miniature nuove forse vanno leggerissimamente fuori scala ma roba da poco rivedete insomma tutto quello che si è fatto questo è un lavoro fatto su commissione e metto subito tutte e due le mano come dico sempre avanti ricordandovi che lo vedete dipinto e colorato lo possiamo ristampare tranquillamente su commissione ma non colorato non è per cattiveria ma ragazzi bisognerebbe chiedervi una cifra tre volte superiore a quello che abbiamo chiesto a questo ragazzo in via unicamente promozionale perché colorarlo ci ha portato via troppo 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 tempo quindi verrebbe a costare tre volte il gioco normale ve lo diciamo proprio tranquillamente però stampato tutto quanto come lo avete stampato non colorato lo possiamo rifare tranquillamente su commissione primo link in descrizione che è lo shop di mia moglie su facebook contattatela privatamente così vi diciamo tempi di stampa costi e quant'altro quindi se vi volete rifare Starquest in 3D è totalmente ordinabile ci dovete dare almeno due settimane di tempo per pulizia, mano d'opera e tutto quanto e vi si rimanda a casa e c'è la possibilità di fare anche rifare Space Hulk completamente in 3D però vi ripeto contattateci privatamente che vi diciamo i prezzi e per non farvi perdere nemmeno un momento vi dico subito che sono lavori che chiedono tantissima mano d'opera e tantissimo tempo di stampa hanno un costo elevato ve lo dico subito quindi non vi stupite se sentite dire un costo 200, 300, 400 euro perché ragazzi i prezzi per rifare una cosa del genere sono quelli quindi non vi stupite venite già prevenuti sapendo già che ha un certo costo ma perché è un lavoro disumanamente grande e consentitevelo anche bello fateci sapere un po' cosa ne pensate e mi piange quasi il cuore a mandarlo via so che è un lavoro so che dovrei essere più professionale ma era anche il mio di sogno ad una vita ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti